guarda che cosa possiamo fare devo fare io devo fare io ma è tipo il c'è il mio corpo e il mio corpo si vede abbastanza male mi sono incastrato non devo riavviare il gioco no c'è la bicicletta di don ma io però io mi sono incastrato mi liberi non posso non sto nel tuo gaming allora puoi saltare puoi saltare ma vedo le mie interiore da questa parte penso che il gioco aspetta che ti invito la chat mi fa notare che ho i piedi giusto allora ora dovresti sentirli tierless raptor no 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 smash no no sedia la orrenda la orrenda parola cazzarola non si dice è offensivo e da bambino poco e due a voi sentite poi due sedia tutto sì sì io non sono però ho la risposta allora come vi invito a nel nel chill nel chill devo stare nel chill ragazzi devo stare nel chill allora e come faccio a invitarmi guardate che voce profonda che riesco a fare sto come non lo so come ma che ne so io vai nelle lobby e cerca la lobby los hermanos ti dice che è private però private si dice ok join private giusto si enter lobby come si chiama los hermanos tutto attaccato ok er manso stavo scrivendo join lobby in camera siamo già entrati questo sei tu pollo sentite ti sento ti sento wow sono nel vr veramente adesso ti sentiamo anche bene che cosa è quello del valve è un microfono di cristo a quanto pare ma io lo sento oddio anch'io ok come come arrivo da voi invito io non posso dire in live dove abito devi andare e ve lo dico io ragazzi via delle rose 42 allora vai nel menù della team le lobby esatto e c'è inserisci private e c'è los hermanos madonna madonna luca solo monkey ma non devi devi fare in private e scrivete il nome capito prime non mi chiamo luca chat smettete sto cercando di capire come scrive col war lo sermo per cancellare vabbè ma lei mi ha sostituito poldo mentre pisciava come fai a ricordarti di questa cosa è successo di un sacco di tempo ma la peta provo provo a prendere la roba da lì alone ragazzi basta si chiama mauro ragazzi non mi chiamo mauro skin color puoi scegliere riesce a invitarmi in qualche modo non trovo il simbolo per cancellare sulla tastiera no non c'è il sistema di invito puoi farlo solo messicano a no non puoi farlo provo a uscire allora per scrivere io tipo bastoni dell'oxilofono che devo battere su questa tastiera c'è guarda ma leo perché improvvisamente ti sento così alto santo dio parla parla vedi che io ho le cose delle bacchette l'oxilofono parlo parlo bene ma ci senti in ritardo per caso quello si è entrato penso di si guardano ma perché ci sta volando si stai volando posso farmi sembra un monaco shaolin girate è importante che sta succedendo vedete che muovo le braccia si vediamo che muovi le braccia e sei molto più alto di noi no ma per mano stai volando alto sta volando con come come che cazzarola sta succedendo così mi mettono a vostro livello puoi abbassarti un altro pochino ma è bellissimo alzati 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 sedia si controllo pande ok come sono i miei genitori ragazzi datemi in tre giorni a ci sono ma che fa allora io mi cambio capiamo cosa dobbiamo fare che già no no prima personalizzazione del personaggio personalizzazione giusto molto importante allora qua non posso fare niente di questi sono i miei capelli ti fai basso ok ciao come nella vita reale sei basso no detto ti fai basso è basso basso ma più grande di voi sei decisamente ma perché stai sulle punte non si capisce perché guardate chat sta sulle no sta fluttuando sei tipo gesù cristo perché fluttuo ma questa cosa non posso leggere la mia chat mi spiazzano un sacco non mi vedete ragazzi bene sei senza ma sei i pantaloni non hai i pantaloni vabbè per me puoi fare un modo ora per leggere la chat di tutti facendo così ma non so come si fa leo fa danza classica oh ciao leo ti sta accrezzando la testa mi sta toccando mi serve di essere su porchat no vabbè proviamo a fare una rapina sì allora aspetta dobbiamo forse prendere il nostro gear a small rape let's go gear to select è che non ah io ce l'ho già ce l'ho già è che questi costano noi abbiamo solo 50 dollari hai ragione eh dobbiamo usare solo la flashlight bro allora teoricamente possiamo grabbare le cose un bag leo mi fa morire poldo poldo guarda ah quindi puoi prenderlo e tirarlo no 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 ragazzi ragazzi allora stiamo attenzione per favore posso tirare oh banana mi sento i pantani no dammela oh è mia no leo la sua banana poldo 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 si si no 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 deploy oh ma mi hai rotto la banana mi sono rotto la banana allora mettete pronto ragazzi andate qui alla lavagnetta oh gli ho tirato cosa sulle palle ok allora dov'è pronto pronto qui esatto esatto dovete provare qui esatto grazie a Matte per il prime è il momento della rapina ci siamo guys ci siamo arrivo ragazzi se voi mi fate il prime io non lo posso vedere perché ho il VR quindi non vi ringrazierò quindi non fatelo ma per questo sentiamo Leo due volte perché ah ok perfetto parla Leo posto posto mi sono mutato ah perfetto perfetto grazie posso vedere le statistiche sull'orologio what the fuck is going on allora io stasera ammazzo mi sono messo il passamontagna quindi immaginare la mia faccia ah ok ti immaginiamo ma stasera faccio un casino cazzo dobbiamo raffinare tutte le facce un bacione io mi conoci a nove mesi allora l'ultimo mese di qui oh grazie ti sei spezzata la mano eh guardavo a mano di Leo no Leo ti sei fatto male la bua ma voi potete voi ce ne avete gli orologi qua sulla mano no no allora ragazzi dobbiamo rubare 5534 dollari di oggetti ok ragazzi io io però ho un po' paura di questa casa sinceramente oh se è un horror io sono invuarti giuro che chi ha detto che questo gioco lo facciamo lo ammazzo domandissima ma io avevo preso la flashlight tu ce l'hai oh oh guardatemi guardatemi mettiti questo in testa no guardatemi oddio Leo wow sta salendo scendi da là scendi da là ma perché si vede così così basso di luminosità io lo vedo bene è che io vedo abbastanza bene guarda guarda come l'hai messa? eh ti dice quando la prendi in mano ti dice indossa fai la faccia come si fa? sono scivolato questo è il coso non è il oh 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 allora il gioco è ancora in early access chat quindi dovete essere pazienti come si mette quella cosa? io guardo allora Poldo mi servi tu che mi guardi che così va Poldo è caduto è caduto calvo Leo calvo Leo steg- a ho steg- ok basta chat mi sentite chat mi sentite perché la cosa è quasi spenta non so cosa ci si cade la cosa divertente sedia è che in questo momento esatto ah no ok sono live di là il soggiorno Rara sto facendo una cena con dei suoi colleghi e loro sentiranno me in studio fare oh no no leo va bene ragazzi entriamo dentro entriamo dentro intanto § allora c'hai solo tu la cosa per la flash lights si ce l'ho io ce l'ho io apri apri allora ragazzi break staff e veloci voi barbecue small what ma scoperto un hack di cristo guarda guarda dobbiamo rompere la telecamera ragazzi break star sulla terra ma perché non sento i rumori ma voi sentite i rumori sì ma tipo che hai rotto quella cosa e si è sentito il rumore ma io no dio santo mi sono spaventato madonna anche a me è arrivato nell'orecchio secco la telecamera rotta stick this to anything allora questo ve lo potete mettere in testa ok va bene dobbiamo capire come funziona il gioco ci dice quanto questo swag ruba questo ruba questo l'ho preso le camera vale 80 ho preso no 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 lasciale lascialo leo allora non posso farci ascolta mi vieni 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 prendi prendi questo modem modem yes mimmo modem che è la seria seria un'idea non so se tu puoi farlo e portiamo via lo portiamo via guarda boldo che stiamo facendo ragazzi no non portatevi è caduto tutto dobbiamo portare il contenuto del tavolo non le cose del tavolo non può contenere le cose allora ragazzi io vado a mettere questo qui là dentro questo lo metto allora get your gear and sto ok figo allora ci provo ragazzi l'occhio alla chat se va tutto bene chat ditemi se va tutto bene perché io non posso guardarmi sempre va tutto bene ragazzi ho fatto un casino chat fatto un casino 5 io mi porto il cosa io mi sto dicendo adesso ok ha funzionato prendo questo no ragazzi non ho capito cosa devo fare io penso che ruberò il tavolo mi piace mi piace molto va bene maieni ma il tavolo il tavolo va messo nel cestino nelle cose e donna la vita reale io eu credo di averlo messo però non conta quanti soldi abbiamo fatto ha messo nevamo 5 cellulari nella tuta gold ok ci vuole lo scanner forse chi lo sa ma perché non vedo un cazzo di niente ok ma proprio sta mappa delle cose dovevamo fare where no raga raga ma non è una mappa è un oddio ciao madonna ragazzi è terrificante non mi state ascoltando non state facendo niente di quello che non so come si toglie anche l'ho tolta cosa dobbiamo fare ragazzi sono quel meme che non posso dire perché c'è la n word ora dammi certo metteva vicino bravo 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 non c'entro l'accendo ok mai non mi ha scoppiato una mano ragazzi è importante guardatemi guardatemi che non funziona questa cosa è che ti è scoppiata in mano secondo me l'hai già usata no ti è scoppiata in mano bro stai calmo questo è un computer vado a mettere il computer no 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 un po solo per terra computer oh proviamo scoppiato proviamo proviamo cosa deve fare quando scoppia l'ho fatto credo sia buggato in qualche modo non so perché ma allora still world of a world of items mi fa male la faccia come me ne frego lo diceva un uomo pelato apriamo ad aprire la porta ma però che si può rubare credo di sì allora teoricamente noi potremmo potiamo rubare tutto ok io io ho un sacco di problemi a capire dove è il pc e ringrazio che ogni tanto controllo green screen per capire dove sono no allora va bene va bene va bene tranquilli tranquilli amici qua c'è qua c'è del gold ragazzi venite gold 5 cellulari nella tuta gold arrivo un fucile pausa per sbaglio non so come unlock from the side ok no ok allora allora qua c'è un pezzo di gold prendilo ho preso questo cosa ci vuole lo scanner leo smettila ragazza cercando di rompere la porta non sono stupido è luigi supereroe che vola chi è incastrato roger rabbit in questo caso che ha incastrato il tavolo nella porta la porta aiutami chi è luigi grazie luigi pugilista ma io lo conta in basso a sinistra ragazzi non ho paura dei pelati ve lo conta in basso a sinistra ma io vedo sempre 5534 ok e fammi buttare questo coso innanzitutto ragazzi sto portando il tavolo però vedi che c'è una barra in basso che ti dice quanti soldi ci mancano bro sì ma sono 5534 va bene forse hai ragione che stai facendo luigi ho rotto la porta lui è brutta e io me la rubo dai non puoi rubare anche la porta segna la porta era sì certo che posso ruberò tutto quello che posso guardate ho una porta in mano chat questo ragazzi non è napoli simulator n a nel titolo sta per nespole scusami leo per me sto portando la porta ragazzi questa cosa è molto divertente porto la porta per chi porta allora ci siamo quasi ah sì sì funziona questa barra funziona ma col viere a guardare fuori perfetto ho rubato ho rubato l'intera cassaforte senza aprirla minchia nelle prossime missioni però ci saranno le persone ragazzi siamo a metà ragazzi siamo più di metà non hai preso il modem che ti avevo detto di prendere terrone bro scusa ok un attimo stato un po to match perché un po to match sì che c'è bravo allora questo cos'è è un pezzo di carta ma c'è scritto smash people in the head smash in chat smash allora se io lo droppo non cambia nulla sa meno la testa del tizio non ci fa non ci fa per niente soldi la testa del tizio un po la finestra qui c'è una palla no ma questa continua a cadere e climb pur questo poi rosso devo riuscire a buttarlo lì dentro solo che no è troppo difficile questo cos'è posso fare così ok ok ragazzi ma perché c'è un livello dove non si vede niente io faccio fatica a guardare tutto potete entrare dalla finestra adesso penso oh il televisore bravissimo ma quando te l'ho detto io non mi ascolti oh madonna madonna santa madonna santa ti taglio le palle ti taglio no non farlo oh la flashlight fico non posso perfetto sono io finalmente vedo qualcosa ho messo tutto ti passo un comodino della finestra buonasera grazie ma il comodino non vale nulla lo butto via il comodissimo la dalla finestra ragazzi io sto arrivando con una poltrona ragazzo ma questo ragazzi mi ascoltate questo è il tutorial quindi possiamo andare non ce la faccio ragazzi vi ricordo che io ho degli occhiali da sole quindi vedo la metà di quello che vedete voi per favore pure io mi devo soffiare il naso sedia con una velocità procede a tenersi ducchiare da sole sì non vedo nulla verso ferme il naso maledizione abbiamo 20 secondi per andare via abbiamo 20 secondi holy shit non abbiamo fatto ragazzi io ci sono i secondi andiamo via devi cliccare il tasto luigi bravi ragazzi abbiamo rubato la porta ok bravissimi ragazzi bravissimi 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 ora soffiamento di naso grazie alla della per il prime adesso proviamo a fare se io muovo la testa tu vedere mia testa muoversi o resta ferma no vedo le spalle muoversi giustamente c'è tutto quello che abbiamo trovato che abbiamo trovato qua potete e vedi la cassaforte o altro ora proviamo a fare un'altra missione c'è giro in tre mesi tempo for the mission a great io che vuol dire change your intel team for new mission diventa una lampada cambia il che è una lampada allora amici ascoltatemi ascoltatemi che missione vogliamo fare è una lampada che missione vogliamo fare portland road no questa è una difficilissima san james walk san gennaro yes ma comunque questa qua la lampada serve per nascondersi se voi la mettete in testa dopo un po vi dice hayden quindi nascondersi da chi c'eravamo arrivati a quello allora perché nessuno lo sapeva ma io l'ho fatto prima allora è una casa abbandonata e va bene dove i ladri possono provare le loro skill in pace no allora no posso possiamo fare una super difficile credo che siamo pronti ecco 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 mi sa che questo allora dovrebbe essere questa che sta facendo le devo comprare con i soldi ce l'abbiamo vai faccio così ok soldi ok non dovevo fare questa cosa qui oddio è la mossa di trunks quella ai amici ho scelto la missione ho scelto la missione ho scelto la missione il penarello vai guarda io tolgo il tappo guarda guardatelo dai mettete pronto allora sì ci siamo io non lo so che cosa sta accadendo grazie io amo il vr il vr è bellissimo quanto costa questo mille porca puttana eva i ladri a rapinare le banche allora ragazzi ora si vede allora ragazzi ragazzi qua mi sentirei prendete la flashlight io ho preso la flashlight però a non serve la flashlight tutto nulla abbiamo solo la festa cosa è questo qua tarantata da da no 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 ok 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 eccomi fatto c'è fatto sgammato no 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 ma donna non ancora mamma mia sedi sud italia sei veramente smetta è uscito qualcuno silenzio silenzio raga hanno acceso la luce ma io devo io devo accovacciarmi veramente per accovacciarvi ma non vale non se lo aspetteranno mai il nostro attacco aspetta piano piano dietro le bici dietro le bici ora facciamo il giro sneaky 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 non fatevi vedere dalla telecamera buonasera tale buonasera quest'auto vola leo leo vieni non fatevi beccare no c'è una telecamera cazzo c'è un'altra telecamera non l'ho vista no no tu devi prendere un oggetto e tirarglielo mannaggia le balle è uscito mi ha visto mi ha visto in pazza non sono io passa montagna possiamo riavviare la missione si come fa non lo so ha spaventato aspetta leo aspetta leo non fare casino allora non so come si riavvia la missione scappando cosa sta succedendo perché stai sospendendo è scappato se n'è andato ok ok frega te ne frega te ne abbiamo perso non abbiamo ma voi venire qua cristo dio ma che stai facendo vieni ma dopo dopo se posso dire comunque è un bel bel giardino che hanno che hanno questi è troppo pesante non ce lo possiamo portare è un tratto di allarme di nuovo allora io lo prendo the whiskey bar prendi quello bravo bravo leo è arrivata la polizia ragazzi siamo fregati no 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 pose il fatto da trattore dobbiamo andare via ma lo voglio la polizia dobbiamo tirarglielo dobbiamo tirare il bottone dobbiamo andare via la polizia è lì la polizia per me del cazzo di bottone a scuola no 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 come si preme premuto ok ok no abbiamo vinto stiamo andando via stiamo andando via ok perfetto ora facciamo la missione però leo non devi non devi goderti il vr stai fermo aspetta io non ho fatto nulla tu hai fatto arrivare la polizia leo è tutta colpa tua sì wow dopo tutte le camere scattate chissà perché è arrivata la polizia e ragazzi ho trovato una scatola pronto mettete pronto leo è una cassaforte scato a mettere pronto come ho detto prima godo avete perso shut up arriva non mi fa riscare c'è un problema ok scusa ma faccio unitis agrario per me è importante ragazzi rasa erba tosa erba e taglia erba sono lo stessa cosa allora ragazzi piano ora sappiamo dove sono le telecamere quindi non facciamoci sgamare ma se sente sopra lì c'è una finestra ok ok innanzitutto iniziamo a rubare le robe semplici tipo queste sono facili da rubare dobbiamo rubare 3000 euro di roba però non c'è lo spazio per portare tutto quindi dobbiamo scegliere la roba che costa c'è da questo non c'è non c'è abbastanza perché nei cestelli dobbiamo possiamo portare un tot di robe dove stai andando anche puoi salire sul tetto leo prova a salire sul tetto non ti fare sgamare bro allora sedia vai occhi se corri ti sgamano se corri ti sgamano occhio allora ragazzi ho un'idea ok ma sulla canova non puoi portare non la puoi portare no è troppo pesante è troppo pesante sulla casa sull'albero tutto via se vedi in basso a destra si vede il rumore che fai non fare rumore bro che ci sgamano abam papam 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 non abbiamo bisogno di un item aperto qui aperto queste lo che ci sono telecamere non mi sembra c'è una finestra aperta pesita voi c'è una finestra aperta chiudo no l'hai chiusa ma sei stupido hai fatto rumore ma la smetti sei cretino no hai fatto rumore guardiamo nella posta se ci sono le tasse gliele paghiamo noi non so come tu non abbia fatto a fare 200.000 di rumore ora possiamo entrare le faccia di un accovacciato sento ancora dormire che io gli rubo il condizionatore che costruiva il condizionatore non resta fuori dalla finestra di passato per station 5 la tv la dito male importante non lo so no la tv bro ci mettiamo un sacco a portarla già preso ma fai un bordello a uscire da fuori bro ma non c'è bisogno della televisione ma non possiamo portare la televisione in bici pro hai ragione se riportare le cose me l'hanno lasci costano da lascia la lascia la lascia ce la fai a portarla perfetto stiamo prendendo il televisore promesso se ti ha posato quel cazzo di televisore no ragazzi cos'è quell'icona quale quell'icona gialla quale quell'icona gialla gialla di condizionatore costano un sacco se lo prendiamo sposta il divano bro è davanti la porta piano 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 sta funzionando come come si mette la come facciamo a fare ok silenzio vabbè potrebbe funzionare se ti aspetta siamo dentro ragazzi condizionatori al giorno d'oggi costano un sacco hai trovato le tasse paghiamogliela allora penso che qua la la macchina del caffè valga tanto io gli ciullo il barbecue io ho le tasse allora bro io ho il micro nel micro vieni alla finestra che ti passo le tasse un attimo un attimo che ho un barbecue hai un barbecue bro dove cazzo l'hai trovato il barbecue stava fuori alla porta allora leo permesso è bravo bravo chiudi chiudi ragazzi ce la facciamo ce la facciamo o però sta ancora dormendo fortunatamente nonostante il bordello che abbiamo fatto ma no non abbiamo fatto bordello questa è una tua percezione brother in realtà è vero con il discaldamento globale andranno a ruba geniale c'è un televisore nella bici ragazzi ma come facciamo a portarci c'è occupato l'intera bici è un televisore a perché non vedi che cosa sto per far arrivare la bici no non è possibile mi è caduta mi è caduta la barbaccia il caffè Cristo Dio mi è caduta la macchina del frigorifero no il frigo è piuttosto grande però il barbecue forse ci sta nella bici i'm the barbecue man ho messo alla finestra le tasse se volete prenderle ok ragazzi davvero sono tasse sì ok ragazzi ma perché non me lo calcola il barbecue secondo me non va niente non lo prendo bro perché è troppo grande non lo possiamo portare oddio non lo so dipende ma come facciamo a fare 3.000 euro di 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 cose ragazzi lo svegli scusa no ragazzi è la soffitta io ho rubato una sedia la soffritta qui c'è qualcuno che dorme aiuto però gli possiamo fottere la batteria se lo facciamo in silenzio batteria c'è una batteria mi è arrivato il ride ma non posso sapere da chi è scusatemi il vr chat ok ragazzi sono al bagno ragazzi andate alla bici mi spiace è stata molto bello questa live con voi io ho apprezzo tantissimo questo contenuto che abbiamo fatto assieme però non penso che voglio continuare a fare questa live perché che è successo ti fa male la testa sono nella vasca da bagno con un tostapane in mano io è stato ma perché ci sono le bici dove ci sono le sto dove stanno le bici ok tecnicamente c'è una finestra una vita la vedo la vita non vuole che io muoia la vita giù butta giù ok ti butto giù le cose e tu le prendi ma allora io ho buttato fuori un tostapane della monitor da gaming godo monitor da gaming ho trovato il coso dei tivoli di butto tutto ma vedi a butta 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 stiamo derubando benvenuti ragazzi ne ho trovato un vr stiamo giocando a un gioco davvero molto stupendo la finestra brutta tutta cosa no è finito che cos'è ragazzi la bici non portarlo non possiamo ragazzi io credo che con il barbecue forse l'abbiamo fatti 3.000 però non so come si mette nella cosa in basso a sinistra ti dice quanti soldi abbiamo fatto 3.000 a me dice no 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 perché c'è quella barra piccolina ma è pochissimo quanto abbiamo capito devi togliere le cose grosse e mettere le robe che valgono fra hai rotto hai rotto la finestra ragazzi svegliato ragazzi svegliato sono nella masca non so cosa fare pro nasconditi affogati io rubo il computer arrivo sedia ragazzi sono sul tetto non so cosa fare sedia io sono dietro di te sedia davvero che cosa hai ragazzi aiuto mi spiace mi spiace bro ognuno ognuno pensi a sé no ragazzi dovete aiutarmi ok questa è una porta in bici ok sono sul tetto sono sul tetto io sono sul palo ma cosa fai sul tetto ragazzi prendiamo i guai cosi ma non prendi i pannelli i pannelli li riesci a tirare giù i pannelli solari no 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 non li possiamo prendere pesano troppo peccato ragazzi allora piano e come come arrivo cioè il tipo si è svegliato io non sento più russare allora proviamo a rientrare io provo a risalire sopra ok aspettami qua si sono accesi delle luci però oh 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 piano piano snicca snicca ma non sento più russare godo io devo abbassarmi veramente per sniccare perché hai urlato io questo problema che devo abbassarmi veramente allora allora fai una cosa vai dove ci sono vedo di voi ormai sto venendo se in live non mi vedranno più perché sono sotto ragazzi non rubo i pomodori non vanno niente ma che c'è solo luce qua ma sono salutarli hanno piano le tasse cos'è questo il garage la palestra è però possiamo aprire il garage no non ho credito è già la porta aperta l'ho già aperta la figura i palesti i pesi da palestra non valgono nulla io ho già provato la sicletta no se avete aperto cash no e quel cretino e quel cretino se un cretino sei chiuso la porta ho chiuso la porta ho chiuso la porta ho chiuso la porta cosa è ma perché non le avete messe nella bici ma come si fa a mettere nella bici però ci devi andare vicino e li metti dentro ma è troppo è difficile per il tuo cervello fare questa cosa ah infatti ecco guarda guarda come sono saliti i soldi mamma mia non ci posso credere ma che vuol dire secondo te mettilo nel cestino della bici non lo so mettilo nel cestino della bici ma perché questa cazzarola di cosa non si mette mannaggia le palle come faccio a mettere dentro la ciclette capito ragazzi dobbiamo mettere le cose piccole che costano c'è che valgono di più quando avremo la macchina il camion possiamo fottere tutto quello che vogliamo al momento abbiamo delle bici quindi ci devo mettere la roba piccola quindi questo cazzo di barbicchio di merda se ne vanno l'affanculo bel tiro gaspare il computer da gaming vale almeno 3.000 euro questo ragazzi come si mette il coso cosicletta ma non ci posso mettilo mettilo dentro la sedia di plastica ma quanto può valere la sedia di plastica ragazzi in questa società capitalistica ci stiamo perdendo le piccole cose ragazzi siete dei ladri pessimi non c'entra nulla fate schifo se solo riusciamo a mettere il barbecue nella posizione giusta abbiamo almeno un po di soldi ma guarda che prima avevo visto che se era salita la barra dobbiamo solo metterlo nella posizione giusta leo puoi mettere il barbecue sopra una cosa dov'è ma perché l'ha lanciato via poldo ragazzi prendiamo le cose piccole ma non capisci che questo qui poi su vinted lo vendiamo facciamo più a prendere le cose piccole su facebook marketplace su vinted pure su subito ridammelo ridammi il barbecue io faccio chiamare la polizia lui non capisce lei non capisce lei vuoi mettere che non me lo portate vai 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 si svegli signore è pronto però guarda che stupido guarda che io non torno nel cambio le stanno rubando il barbecue signore le stanno rubando il fottuto barbecue guarda guarda che snitch sta snitch sta snitchando sta snitchando il pezzo di merda ragazzi ho rubato il letto del tipo mentre dorme non se ne è accorto venite a darmi una mano arrivo dove sei ho letto del tipo ma sei sopra si 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 apri la porta che prendo il divano che succede? ho messo il barbecue e la secrezione di bici ragazzi dammi una mano dove sei? come si sale? no ops aspetta climb 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 oddio il registratore ok sono dentro venite sono al piano sopra dovete darmi una mano dove sei? che stai facendo? io ho rubato il letto si è svegliato però ho fatto uscire il divano non può uscire dalla casa quindi non può chiamare la polizia perfetto sta qui sta qui dentro chiudi chiudiamo dobbiamo prendere il letto ok tasse prese no si è svegliato il tizio che sta facendo? è preoccupato credo tutto bene signore? vabbè non credo stia bene non credo ragazzi io vado io vado a prendere una cosa che potrebbe servirci un'altra televisione ma manca pochissimo come manca? vai 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 come impatto? ti ha scritto alert ragazzi perché? perché io prendo il cesso prendo il cesso prendo il cesso non posso prenderlo perché non si stacca mannaggia le palle andiamo via prima che arriva la polizia no no siamo così vicini all'obiettivo bro dai 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 prendo il mappamondo il mappamondo il mappamondo io ho preso la palla da calcio è una bottiglia la palla è firmata da Ronaldo Barrez Leo Leo puoi mettere questo? no ragazzi ho fatto cadere qualcosa ma siete fuori? no perché si è abbassato di nuovo siete le bici? ecco perché perché quello stupido di Poldo ha fatto cadere qualcosa arrivo arrivo non mi devi chiamare mi devi chiamare stupido volevo dire non posso le tasse lascia le tasse scusa sono le tasse che valgono tanto puoi mettere tu bravo Leo senti Leo ho fatto a mettere la cicletta la cicletta sono vece Leo Leo per cazzo ma c'è un cazzo di barbecue va bene Leo Leo puoi mettere pure questa sedia? arrivo provo eh per favore non so come si ok così ok se ce la fai per favore perché mi serve allora Leo è bravissimo ecco il VR non si sa mai non si sa mai non si sa mai ecco la sedia un po' difficile allora prova con la bottiglia che magari riusciamo a farci questo qua guarda la palla è entrata la palla è entrata ok ragazzi vado a vedere se posso prendere qualcosa di valore di sopra esatto prendi valore di ok ma ho fatto casino ho fatto casino ho fatto casino manca pochissimo eh sì sto vedendo se riesco a prendere qualcosa come si è piegato ma questa è una torcia ragazzi ok bottiglia messa allora qui c'è un vaso un quadro un altro quadro vedo se c'è qualcosa di sotto bravo Leo guardalo che bravo bravissimo ma non vale nulla toglila toglila non vale niente toglila toglila lasciala lì allora se io riesco a fare una cosa lasciala lì guardala che bellina che è ok aspetta aspetta è stupenda no il mio mappamondo la sedia mi sta facendo cadere il mappamondo no no ragazzi non fate cadere il mio mappamondo l'ho portato io la sedia si bugga aspetta due secondi devo provare non funziona eh no la sedia va tolta si sta buggando posso rubare lui ok questo metto qua dentro no a posto ok ce l'abbiamo quanto manca cosa manca beh non lo so manca pochissimo manca qualcosa di sei qualcosa che si muove qua allora metto in ordine ragazzi io sento dei passi ragazzi non è che è il tipo no dove sei ragazzi prendo il condizionatore ok fammi mettere in ordine questo casino qua non puoi prendere no non ce la fa Leo a mettere il condizionatore ops ho rotto la bottiglia mi lanci qualcosa dalla finestra sedia quella del bagno eh aspetta aspetta che forse no Leo lo sei combinato è caduto tutto eh sì 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 lo so lo so sto mettendo in ordine prendilo mannaggia le palle e tu non funziona no 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 ragazzi via prendi il bottone 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 devi prendere il bottone devi prendere il bottone spingati prendi il bottone sto arrivando sto arrivando che sdiccio ha chiamato la polizia perché lo stavamo derubando oh oh ma ci stanno facendo col taser no 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 scappa 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 passatevi and goodbye che palle raga ce l'abbiamo quasi fatta ma che cosa oh 2800 oh però minchia l'abbiamo presi i soldi no guardali lì per terra porca puttana siamo dei gamer facciamo un'altra missione mi piace troppo non posso prenderli siamo dei gamer siamo veramente dei big ladri no big ladro non so ragazzi suburbano un attimo la chat perché sennò non la vedo più certo 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 facciamo questa no questa dice che è difficile no ciao chat come va sì dai facciamo questa vai ragazzi mettete pronto ah no ma forse possiamo cambiare pure la bici e comprare qualcosa di più grosso eh se riusciamo magari quello sarebbe l'ideale perché poi sai è una di quelle cose che poi riuscire 2800 di profit non si sa mai sai cos'è sono quei 2800 di profit la cicletta e il barbecue siamo noi siamo noi i gamer chat siamo noi i gamer che derubano la povera gente comune lo facciamo per ribellione ragazzi ribellione contro il patriarcato allora no pensavo di riuscire a romperla volevo rompere la cosa infatti cazzo guardi e lo puoi fare lo stesso siamo i gamer si è rotta che sta facendo poldo sono qua sono qua sto tentando di capire come cambiare il mondo allora qua sotto sta qua sotto sta qua sotto vedi use toc toc tuk tuk quanto ci costa però sedia 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 che c'è la cicletta dov'è allora qua c'è il coso il van quanto costa il van mi sto impersonificando troppo con sto vr ho fatto bro 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 devi scendere devi scendere poldo poldo devi sceglierlo tu perché sta qua sta qua vedi qua poldo dimmi girati aspetta aspetta un attimo sono un otaku è impossibile parlare con lui qua dimmi ah puoi sceglierlo tu è quello che possiamo fare di più sono un otaku ok quanto costa quello che costa di più Leo Leo ti volevo regalare questo a te lo fa usare ok tieni facciamo cambio mi fa switchare ma non mi dice mi dice host chooses getaway tieni fai cambio puoi sceglierlo io thank you è per te io sono un otaku shinigami arcade non ha funzionato arcade posso comprare il pick up però costa 25.000 no non posso comprare niente possiamo comprare l'ape se volete dopo dopo questa missione vai 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 dopo questa missione ah che parla andate a mettere pronto che voglio l'ape carro armato pronto dobbiamo continuare a fare così ragazzi il gaming deve essere fatto deve essere fatto assolutamente la nostra protesta contro la gente comune il capitalismo il patriarcato e tutte le altre cose che finiscono con ismo stanno per essere fatte quindi anche l'ebraismo l'islamismo il cristianesismo il cristianismo ah questa è quella di prima dove c'erano le telecamere quindi occhio no come facciamo a rompere le telecamere quindi ho un'idea dove sono le telecamere qua davanti la vedi lì sul muro no poldo è lì davanti a te la telecamera fermo ah ok scusatemi scusatemi datemi un attimo cos'è boh cosa hai fatto ok non è così che si distruggia la telecamera ah le palle provo ad andare gli sneaky da sotto e strapparla ragazzi ho tirato per sbaglio la 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 flashlight non ha fatto niente l'ho tirata per sbaglio va bene giriamo intorno ah è lo stesso di prima ma ha messo le telecamere godo cioè non pro let's go oh let's go ragazzi è qua un tizio c'è qua il tizio fermi fermi è qua a sinistra perché vedo un po' per sotto c'è erba ma ancora ragazzi ma prendiamo le cose piccole il tosa erba il tosa erba il futuro il tosa erba il futuro allora Leo è pieno di telecamere io sto cercando di saltare nella vita reale per prenderla ma non c'è allora sì teoricamente si possono rubare anche le persone se riusciamo a prenderle ma buonasera Chris benvenuto in live grazie dei 18 mesi James 18 mesi Chris allora ragazzi il tagliaerba ragazzi dovete sapere che poi nel momento in cui arriva maggio giugno che l'erba comincia a crescere per via dell'estate il tagliaerba è uno stonks l'avevi persa oh grazie brother come si prende mi ha quasi visto una telecamera ragazzi c'è una telecamera all'interno del garage quindi occhio garage ma che sei francese caramba allora possiamo distruggere con le palle la ok non ci posso credere ragazzi ok no no è passato è passato il tuo serba ce l'abbiamo come facciamo ad averlo il tuo serba e poi non è cresciuto nulla sulla bici nessuno ma che cazzo ti ho detto ma che cazzo ti ho detto ho detto nel garage c'è una telecamera ma non mi ascolti oh bella quella palla ma sopra c'è una coppia che litiga io e te dobbiamo fare i conti i conti del gaming numero uno c'è una coppia che litiga sì sono di sopra sono svegli li vedo da fuori ragazzi ma io aspetta c'è la telecamera stedia è stato inaspettato ragazzi devo prendere qualcosa da tirargli no però c'è uno dentro occhio c'è uno dentro occhio ma dici che se ritiriamo qualcosa si rompe secondo me sì ha detto che potremmo smeccarla no 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 non si può rompere raga dobbiamo trovare un ingresso dove non c'è una telecamera il problema è che sono tutti svegli quindi via allora nel frattempo metto la questo è uno scivolo non si sa mai entriamo da sopra entriamo da sopra entriamo da sopra da sopra sì sì ci sono le finestre sopra sì sì possono rompere le telecamere oh è risorta come si tolgono come si possono rompere ti lanci qualcosa ma io gli ho provato a lanciare non ha funzionato l'ho rubata l'ho rubata ho una telecamera come hai la telecamera sì ma cazzo non la funziona sto gioco ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo vlog che andiamo a rubare mi sono mi sono mi sono mi sono raga dove trovo io non puoi le telecamere allora io entro dalla finestra no gliela chiudo poi tiro a vento come cazzo non la si entra allora io sono io sono sopra non so in che modo posso entrare bravo io sono dentro bravo bravo io sono dentro allora qua c'è una stanza con due persone dentro allora io posso guardarle e vi dico che succede bene stanno parlando stanno parlando stanno litigando hanno fatto pace no no sembra no sta crescendo dalla porta d'entrata siete voi no no ho aperto io la porta così abbiamo le porte aperte aspetta che non puoi la telecamera d'entrata ah ah che perché c'è una tele l'hai rotta no ragazzi sta scendendo sta scendendo un tipo sta scendendo un tipo scende un tipo eh occhio ok verrà verrà a trovarvi verrà a trovarvi un tipo occhio ma perché a me non funziona raga raga non vi fate si chiamare sedia occhio la telecamera sedia sedia vuoi smetterla ho provato a tirargli una sedia alla telecamera non ha funzionato sta uscendo il tipo quindi occhio ok io ho rubato la telecamera e un trattore per adesso puoi distruggere una telecamera per bambini eh non si sa mai se un giorno dovessimo avere dei figli vorrei che avessero uno scivolo per scivolare allora io raga non so come entrare io ho aperto le porte fra che cazzo vuoi no no perché sono allora loro sono al piano di sopra se non accendiamo le telecamere loro rimangono al piano di sopra quindi rubiamo tutto al piano di sotto ok però al piano di sotto c'è una telecamera la rompio la rompio sta nel garage stai attenzione quella che hai fatto appena scattare non l'ho fatta scattare io poldo l'ho fatta scattare perché era al lato della casa ragazzi comunque non si vede niente accendo le luci come accendi le luci non si sa mai oh food dentro c'è una telecamera prendo il pc da gaming intanto bravo bravo ma sei salito al piano di sopra sedia no stanno tutte le porte aperte bro dai ma quale porta tutte le ho aperte tutte quelle per entrare ma non le trovo ciao 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 ci sono altre telecamere qua in giro e se ne allora se riesci a distruggere questa sarebbe top vieni ragà mo riempiamo sto posto di merda ve lo giuro dentro si è lì eccola 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 è qui a destra guarda la vedi da qua se vuoi gaming 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 ma devo andare a finestra qui no 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 se vuoi entrare da dentro venite da me venite da me venite da me venite da me guardate ho aperto tutte le porte godo ok però piano perché sono al piano di sopra quindi snicca è sedia a corre ma non si sente si vede che non si sente questa è la sedia di PewDiePie la volevo sempre guardare cuffie da gaming cuffie da gaming cose godo pazzesco dimmi quando la rompi arrivo che state facendo che state facendo deve rompere quella telecamera schipi di toilet ok ok fatemi schipi di toilet ma questa non la rompe staccati ah le mie mani devo lanciare qualcosa di più pesante ha portato tutto ah ma dobbiamo rubare solo 9 cose no 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 adesso gliene rubiamo di più dobbiamo rubare solo 9 cose raga ma guarda di pesante ma come 9 cose si c'è scritto in basso a sinistra non è a soldi questo dobbiamo rubare solo 9 cose di valore ma io ne voglio di più anche io voglio di più secondo me se ne diamo di più poi possiamo comprare il furgone ah la tv mi serve no bro dai fai un casino se li fai venire qua mi incazzo oh perchè funziona così male la ho un'idea chat ci sono delle pistole ho un'idea poi ci sono delle pistole cioè finte chat ho un'idea però seguitemi in questa idea ci sono ci sono ci sono non possiamo cosa ha preso sedia no la macchina non la puoi portare fai un casino ma no no guarda 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 ce la faccio no 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 seguitemi dai dai che ce la faccio dai venite possiamo per rubarla insieme ma ti dice letteralmente il veicolo che hai è troppo piccolo lo diceva anche lo diceva anche col toserba indovina che cosa abbiamo all'ufficio il toserba c'è anche il toserba sopra una bicicletta se guardi ragazzi comunque qua c'è la sedia da gaming il computer da gaming e lo schermo volete mettere le cose lì sopra per favore vorrei lo scivolo va bene ragazzi i miei futuri figli quindi non avranno un'infanzia avranno un pc da gaming va bene dai lo accetto perché non ci va io non so me dalle mettere a me che posso metterle tranquillamente con le mani eh infatti guarda Leo che flutto e arriva come se fosse tensing si effettivamente è fortissimo è davvero forte c'è la bocca no è caduto qualcosa manca solo qualcosa no 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 non manca niente non manca niente guarda non manca niente ragazzi per chi stesse vedendo è questo qui questo indicatore qua io voglio anche questa tv però eh prendono a prenderla puoi metterla pure la sedia che è quella di PewDiePie andiamo forza cliccate il bottone ma mi piace ma mi piace la sedia di PewDiePie no 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 ma è la sedia di PewDiePie premete il bottone abbiamo rubato a casa di PewDiePie si abbiamo rubato a casa di PewDiePie è successo davvero in Giappone scusate non so perché ho risultato in questo modo vi chiedo scusa abbiamo il tuo serba abbiamo il tuo serba finalmente sono pallido perché pallido compriamo l'apecar compriamo l'apecar vai con l'apecar finalmente il track non possiamo la sedia firmata di PewDiePie no abbiamo 5000 dollari raga non possiamo comprare il coso facciamo un'altra missione e compriamolo facciamo un'altra missione e compriamolo a me sta venendo da vomitare tra un po' allora qua io vi direi io vi direi che va bene però tra un po' sono lì da solo una cosa che potrei svenire tra qualche minuto anche tu? qua ci danno 19.000 dollari vai andiamo vai 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 mi piace questa conversazione io che faccio? io sto per vomitare e tu? io sto per svenire sì mi sento qua ci sono 19.000 dollari partiamo con questo vai 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 19.000 dollari ragazzi mi sento the big cheese però qua dobbiamo essere dei bravi ladri quindi Leo tu impili le cose nella bici io ruvo sedia è un pazzo va bene perché c'è un orso nel pavimento? no possiamo rubare l'auto? no fermo 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 non ci sono telecamere ma non sono svegli esce uno esce uno esce uno nascondetevi nasconditi come nasconditi ma siamo appena arrivati ho un'idea mettiamo questa macchina qua davanti così ci nascondiamo non funziona? vabbè figlio di puttano non ci posso credere non ci posso credere sedia ma che cazzo fai? per distrarli ma tu sei pazzo? ma sei letteralmente davanti alla loro visuale ma che cosa stai facendo? smettila è uscito ragazzi è uscito è uscito sono usciti vieni nasconditi sedia ma questi sono i miei mini ciccioli e li volevo usare stanno venendo da noi no ragazzi non ci posso credere scappate 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 sei un cretino sei un cretino niente sono morti? andiamo via hanno visto voi sono scappati perché? a me hanno salutato adesso arrivano la polizia mangaka ammazza mangaka raga per me è del bottone che lo facciamo da capo ma sono scappati tanto come arriva la polizia prima che arriva la polizia rubiamo l'auto rubiamo l'auto rubiamo l'auto rubiamo l'auto rifacciamola da capo dai perdiamo tempo ma dai c'è qualcosa prima che arriva la polizia c'è un telefono delle cuffie è inutile tanto dobbiamo prendere un cassino confidec chair dobbiamo solo questa? no ragazzi dobbiamo rubare solo una cosa è vero solo una cosa poi bisogna rubare ma qual'è il confidec chair? poldo? poldo? ecco poldo complimenti poldo se non facciamo la missione per colpa tua mi incazzo ragazzi premete il bottone così la rifacciamo da capo uffa ma che palle potevamo farcela io ho rubato una playstation 5 dobbiamo sempre fare come dice lui madonna solo perché ha più iscritti bastardo state mettendo alla prova la mia pazienza state mettendo alla prova la mia pazienza quindi adesso la facciamo da capo e non parlate ah guarda certe volte guarda il gaming diventa veramente proprio così questo lo chiami gaming sto svenendo stiamo rubando in casa delle persone mettete pronto sto un po' svenendo io ho messo pronto arrivo pronto chat forse oi se sto svenendo allora ce la faccio non lanciamo delle fottute bombe in casa di queste persone ma ce li abbiamo perché non le dobbiamo usare perché se non serve adesso sarà una telecamera dobbiamo rubare ma questa è quella che ci dà 3960 ma non è quella che ci dà 19.000 eh probabilmente no era quella di prima ma fermi che rompo la telecamera io sedia mettiti le mani nel cazzo che schifo ma un po' dentro casa sta suonando la batteria è stupido possiamo spaventarlo con dei miniciccioli se volete una picca di le mani super in culo ok una telecamera è andata possiamo rubarla la telecamera ma si prima ne abbiamo rubate tre bello a sto giro dobbiamo rubare 3000 dollari quindi stiamo attenti con le cose che prendiamo chi è che è stato quella è una telecamera no ha smesso di suonare la battery what cosa è stato da dove è arrivato bravo lo sento camminare lo sento camminare è qui è qui raga è qui è qui ok rientrato in casa bene ottimo cosa possiamo tirare addosso leo leo dimmi girati verso di me raga sono in casa sono in casa un attimo che sto prendendo una cosa vuol oro let's go baby sono in casa loro let's go baby c'è una bilancia we go for the barbecue è la telecamera che ti ha fatto suonare prima è quale a me no a polvo ah è la socca bro bro è qui che suona la batteria prendo il frullatore ruba la batteria no no sta suonando la batteria come la rubo posso entrare così la telecamera no bro 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 viene sta venendo sta venendo via 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 jump allora forse forse sta per uscire che hai fatto ha smesso di suona la batteria ha smesso di suona la batteria io non c'entro niente ruba il suo rene come non c'entro niente leo ti ho sentito respirare potrebbe uscire di qua occhio raga sta suonando sta suonando perfetto godo allora lui è qui dentro quindi di qua si può andare si si ho tolto anche la telecamera qua c'è un'altra come entrate dentro qua c'è un'altra aggrappandoci alla finestra ma c'è una finestra aperta basta che si passo dentro si allora lo facciamo così con me no leo ha dei vantaggi in quanto ha smesso di suonare raga no sta ancora suonando ora se gli snichiamo dentro lui non se ne accorna non ci posso credere gli ha chiuso la porta sento rumori dobbiamo entrare dentro la stanza che sono sti rumori rumori che gli dobbiamo rubare siamo qui dentro allora io sono dentro ma cosa dobbiamo rubare rubiamo le altre cose mi ho fatto con la tromba allora dentro la stanza di lui che suona la batteria era questa scena dentro dentro ascoltami dentro la stanza di lui con la batteria ci sono un po' di oggetti di valore ok una king cube questa finestra non si può aprire no ti rompo il fottuto decoder ma apri la porta d'entrata no no uscita dalla porta d'ingresso ma è già aperta ok a me sta venendo da vomitare tantissimo è l'ultima è l'ultima è l'ultima ok ok vai 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 madonna ho sempre detto che i batteristi sono tutti di citrulli porca troia ragazzi ho preso il comodino per sbaglio no ragazzi è bloccata la porta no ragazzi è bloccata la porta è bloccata aspetta chiudila tu chiudila tu aprila tu aprila tu come si apre così ok via 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 come si stacca questo piaccia mi voglio uscire voglio uscire per mia donna che paura uccidilo non ci abbiamo il martello no ragazzi come facciamo a rubare 3000 dollari di roba questo non è dentro madonna no ragazzi non possiamo ucciderlo già è un batterista ha una vita triste cosa dobbiamo rubare di valore ragazzi non le serie ho trovato un laptop ho trovato un laptop ho trovato un laptop teoricamente adesso dobbiamo mettere queste cose dentro al basket no ruba la batteria ho preso delle casse bro 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 no non glielo rubare che io sono qua sono qua non mi fregate ragazzi mi fregate no no dovevate a fischere ok ragazzi subito alla bici rubiamo quello che abbiamo mettiamo le cose mettiamo le cose dentro mettete le cose dentro come si mette le cose dentro faccio io faccio io si arriva la posizione è arrivato con il Charleston dai 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 vai 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 messo ma perché non vale niente perché non vale il barbecue il barbecue mettere il barbecue secondo me il barbecue vale un pollo di soldi nello sbricchete mi mettere il barbecue e poi premede il tasto che se arriva la polizia siamo finiti prendo una padella non si sa mai stai qua vicino che se arriva la polizia vai leo metti dai vai su padella padella un cazzo manca solo sedia quanto manca per prendere l'ape possiamo comprare l'ape raga adesso possiamo rubare un sacco di roba facciamo un'altra missione ma leo sta vomitando reggo reggo reggi l'ultima l'ultimissima vr allora io ci sono qua ci danno un sacco di soldi ci danno 7000 buonasera astro buonasera ce l'abbiamo se andare ci siamo sono rimasto tanto indietro sei rimasto indietro di due anni un anno e mezzo cristo iddio avevamo più spazio con le bici ma no non è vero allora steal the marked expensive stand up speaker ah io lo so dove l'ho visto dove? ah un telecamera mi sono allontanato mi sono allontanato l'ho rotta l'ho rotta l'ho rotta occhio che esce il tipo eh holy shit lo sento camminare nasconditi mi sono nascosto vi ha visto? no è tornato in casa a posto è anche aperto la porta d'entrata è un citrullo che stupido usiamo i miniciccioli per entrare ma non usare i miniciccioli dai ma io li ho comprati sedia gli rubo il cane io poi rubo il cane raga non è tornata la batteria il tipo non è la batteria? sedia dove vai? shhh ce la faccio ce la faccio no no sedia sedia è lì sulla scrivania sulla scrivania alla tua sinistra speaker prendili prendili è uno solo erano due prima cosa sta prendendo? ma dice stand up speaker stand up speaker allora dov'è? dove è Leo? mi rubo il cane pido? stand up speaker non è qui raga dov'è il tipo? stand up speaker raga in chat cos'è uno stand up speaker? ma è uno speaker in piedi cioè quello lì con la è tornato dentro? non so dove sia nel dubbio è qui dentro non c'è l'ho trovato l'ho trovato la carriola leva le palle si l'ho trovato l'ho trovato shh shh ma è lì il figlio di puttana e occhio frate occhio usa i miniciccioli no non li usare ok raga sono al telefono sono al telefono io li distraggo no 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 vi vede vi vede vi vede Leo non ci serve il barbecue usiamo i miniciccioli usiamo i miniciccioli per farli uscire nel retro gli fotte dello speaker e andiamo vedi vedi che i miniciccioli servirono allora bro prendi un minicicciolo e vai nel retro va bene ci sono potrei averlo no no proprio sta uscendo sta uscendo sta uscendo Leo occhio li mando sul retro li mando sul retro telecamera sono solo solo davanti raga no stanno venendo qua prendetelo prendetelo entrate prendetelo prendi lo prendi lo sta arrivando ecco eccolo vieni di qua vieni di qua vieni di qua l'ho preso prendo l'altro prendo l'altro ti faccio strada io vieni bravo 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 vieni bravo bravo c'è la goccia del cane è andato no raggiù c'è la sedia c'è la sedia era questo qua sbri lucicoso e non so perchè sei bagato e volato nel liber spazio e io lo metteremo la goccia del cane ma il barbecue mettilo mettilo bro mettilo non so come no dobbiamo rubarne anche il cane sì 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 è il barbecue io lo volevo ora metti qua tate il cane poi andiamo è il barbecue dai prendi il barbecue è il barbecue io lo volevo il barbecue lo cazzo di barbecue ma ci siamo arrivati arrivo ragazzi arrivo parti parti prendi i barbecue prendi i barbecue prendi il barbecue mettiti il tasto dai 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 barbecue prendi il tasto l'ho messo è uscito è uscito è uscito ok è uscito Stai guardando è il telefono Premi il tasco Ok Ok Vedere se abbiamo il cane Il barbecue il barbecue No il cane non c'era No L'abbiamo preso il cane Il barbecue Let's fucking go baby Let's fucking go Ok abbiamo rubato tutto Ok Facciamo questa che ci da 6 mila dollari No basta Poldo Come basta Mi sto piacendo un sacco Sono le 10 Sono le 9 e 50 Le 58 Le 58 Va bene ultima Io col VR mi sto piacendo un sacco Cioè è bellissimo da fare col VR Prendiamoci il VR e facciamolo tutti col VR la prossima volta Allora Continuiamo a giocarlo sto gioco Mi sta piacendo Aspetta voglio vedere se è una cosa è fattibile col VR Vai No non riesco da vincere Volevo provare a pazzarti Mettete pronto Mettete pronto Vado Aspetta Che è straeccitato per il barbecue Un cretino Altro che altro Ma come un cretino Come cazzarola di per me 200 dollari di barbecue ogni volta Metti pronto Eh faccio lo cazzo Ecco Che dobbiamo perché Che Va bene No possiamo comprare le banane C'è una bomba C'è una bomba Ragazzi avete pronto Sì 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 Fai vomitare l'era C'è un cretino di merda Come ti permetti Scemo Era un po' fuori inquadratura Allora chat ce la facciamo Ce la facciamo Promesso ce la facciamo Allora C'è la scala La scala La scala l'ho comprata io No l'ho comprata anch'io Una scala Piano Allora Scala sul tetto scala sul tetto Dobbiamo rubare il barbecue Non ci posso credere C'è la telecamera C'è la telecamera C'è la telecamera C'è la telecamera Dobbiamo rubare il barbecue Non è possibile Come cazzo hai fatto Hai messo la scala in piedi Fammi rompere la telecamera Che cazzo di nanzo La palla Eccola qua Ok Stanno dormendo Dove ce l'ha il barbecue Qui dietro codo Come si fa a piazzare la scala Ok Ok raga Si è stragato Ok raga Si è stragato Ok raga Rotta la prima telecamera Aia Ho prestato il cavo del VR Come cazzo fa Guys Ma lo scopo è rubare il barbecue Oooo Si Yeah baby C'è il barbecue C'è il barbecue Yeah We got em boys We got em boys Guarda come faccio il canestro Ci sei? Lasciamelo Gamerinos Grazie Tommy per i 5 mesi Un bacione Il nostro bambino è a 9 mesi Si fa Let's go baby Michael Jordan Let's go Gli rubiamo qualcos'altro di strano La macchina È il momento Ora o mai più Prendi la macchina No il pick up Non ce la facciamo col pick up Allora io lo prendo da qua Dai dai l'importante è che non facciamo cadere il barbecue Perché dovrebbe essere Ok ok alzatelo Il barbecue ho messo bene Allora io vado da di lato Ok Leo tu ce la fai a tirarlo su Sto provando Non si alza Sono bastata forte per alzare un pick up Sono debolissimo Ci penso io Ok Ok Ce la facciamo Madonna se rubiamo il pick up godo Ok Salgo sopra Salgo sopra L'ho preso L'ho preso Vai vai Io sto cercando di spingere No niente Ma tanto Tira sul barbecue Lo mettiamo sul pick up dopo Ok Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Ok Vai 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 Se saltate lo spinge Dobbiamo metterlo fino a metà Dai 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 deve stare qua sopra Dai dai ce la facciamo Sta salendo Sta salendo Dai A me si sta mettendo A me si sta mettendo Ok ok abbiate pazienza Bravi bravi Ragazzi sta salendo Ce la stiamo facendo No 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 si sta cappottando Ok Vai vai che ce l'hai ancora un po Continua così Ah devo saltare io sto saltando E quindi si sposta No ancora Ok devi saltare Vai sedia bravo Vai vai ci siamo Ci siamo basta Ancora un po' di più No volarlo Molla Ok Ok ora metto sul barbecue Ok piano che lo No non ce la farei mai a mettere sul barbecue bro Se fai cadere l'auto noi la teniamo Sedia preparate a prendere l'auto Vai Ok No 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 la tengo la tengo la tengo La tengo io la tengo Tu metti la cosa così io la tengo Allora Ci sei Ok L'ha messo la messo la messo la messo No 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 Ho solo droppato la No 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 Merda 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 Ce l'ho preso Lo sali 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 Sto saltando sto saltando Vai così vai così vai così vai così Io lo lascio Eh bisogna rifarla ancora un po' Ah cazzola No 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 Mannaggia che si accapa Dobbiamo mettere il muso Il muso dentro la pecar Ancora un po' Il muso della macchina Ah ok Sali su Io sto saltando Ok 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 ci siamo Lo lascio Perfetto Ora metti il barbecue Ora metti il barbecue Ah mi sto scazzando il barbecue È perfettamente in equilibrio Ok bro Vai 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 Non so dove però Non so dove però Appena vedi che esce il coso Cazzo Eh come cazzo lo metto la sopra La sto tenendo La sto tenendo Io la sto tenendo E non la tenere troppo Eh devo capire come Arrivare là sopra Grazie Bruno Lupin 3 Ma il del tutto questo Quello sta dormendo Sopra il tetto dell'ape Cara effettivamente Eh ho provato Ma non ce la faccio Ad arrivarci Facciamolo insieme Vieni Vieni qua Vieni qua Leo Portala davanti al muso Che la metto io Prendila Mettila sopra Sopra proprio il pick up Sopra il pick up Cioè Puoi lasciarla anche lì Cioè vai 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 Non riesco a premere il pulsante No ragazzi Ok io non riesco L'ho premuto L'ho premuto Ok Ok non fate la cadere Non fate la cadere Ok Non fate il barbecue Ce l'ho Ce l'hai Ce l'hai Ah beh 19 18 Tienilo 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 Ce la faccio L'ho premuto Ok ok perfetto Non ce la posso fare Vediamo se Non ci fai so credere Le scaldi Le scaldi Ce l'abbiamo fatto Vediamo se ce l'ha da buono Ce l'ha data Ce l'ha data No Non ci è dato l'auto No Non vale Gioco di merda È bellissimo Sto gioco Che vale Tutto questo impegno Per mettere qualcosa dentro Per me Per me L'abbiamo preso Il pick up Per me L'abbiamo preso Nel mio cuore L'abbiamo preso Nel fotodo pick up Nel mio cuore C'è quel cazzo Di pick up L'abbiamo preso L'abbiamo preso